Ragazze abbiamo il sole, finalmente c'è il sole e una caterva di prodotti finiti, cominciamo! Ciao ragazzi, ciao ragazze, bentornati sul mio canale, questo è il video dei prodotti finiti del mese di maggio 2019, come sempre in collaborazione con i miei gatti e Stefania del canale Stefanielle, se vi fa piacere passate da lei. Io direi di cominciare, allora passiamo da, cioè passiamo, cominciamo da integratori, ho terminato l'Aloe Vera al mirtillo rosso di San Demetrio, opificio erboristico, questo è un integratore alimentare da 500 ml di prodotto, ne andavo assunto 50 ml al giorno, io lo smaltivo al mattino e alla sera. Ragazze, il sapore di Aloe Vera fa veramente cacare, io non riesco a berlo, però con l'aggiunta del mirtillo mi sono trovata benissimo. Al mattino mi crea una specie di guaina allo stomaco che non mi fa venire acidità allo stomaco, visto che io nei cambi di stagione soffro di gastrite e alla sera mi concilia la migliore digestione, devo dire che mi sto trovando benissimo. Il primo mese di trattamento che ho fatto è veramente lo stomaco che sta benissimo, inoltre va a purificare l'organismo, la pelle eccetera eccetera. Grazie al mirtillo rosso all'interno va a stimolare anche la circolazione, infatti io ho sentito le gambe molto meno pesanti, ma non solo grazie a questo, ma grazie anche all'acqua e gli altri integratori. Mi è piaciuto molto anche se è quello che sto utilizzando adesso, perché ne ho cominciato un'altra, faccio fatica veramente perché quella è l'oe vera pura e bababia. Poi sempre integratori ho terminato il selenio di equilibra, queste erano delle pastiglie di selenio, due perle al giorno che dovrebbero favorire, dovrebbero ranforzare il sistema immunitario, i capelli, unghie e comunque il selenio fa molto molto bene proprio all'organismo. Purtroppo non mi è piaciuto solo perché mi tornava su, mi tornava su questo retrogusto di non so che cosa, però mi ha aiutato tantissimo per quanto riguarda capelli e unghie, anche se io non soffro particolarmente, ho sempre le unghie dure come il muro, non si spezzano mai, però ecco un giro mi fa piacere utilizzare, fare. Finito anche di Bio Vegan, questo è un integratore alimentare biologico, tonico, al maca e zenzero, questo è certificato Ecosert Vegan, ok, è finito, lo potete trovare dall'esse lunga, lo utilizzo, faccio ciclicamente questa cura con integratori per rafforzare il mio sistema immunitario nei cambi di spagione. Come questo che vi ho mostrato nell'ultimo haul, ma l'ho finito perché erano solo 6 fialette, di Matte Diet, Papa Reale, Ginseng, Poline e Fiale. Questo qua mi è piaciuto tantissimo ragazzi, erano 6 fiale, gusto dolcino ma sul finire era un po' amarognolo, quindi era un po' sulle montagne russe come gusto, ma devo dirvi la verità, l'energia l'ho sentita, l'ho sentito quel qualcosa in più, quella botta di energia al mattino, a stomaco vuoto, fantastico, sicuramente lo ricordo. Comprerò ve lo consiglio. Giulia mi ha detto che Papa Reale fa venire fame, stranamente questa non mi ha fatto venire attacchi di fame. Poi ho terminato la mia solita tisana, questa qua, sogni d'oro con camomilla e melatonina, mi è piaciuta, questa mi concilia benissimo il sonno. Sapete che io ne uso queste qua come il pane, ma adesso mi sono fermata un po' perché da quando prendo l'aloe non ho tutte queste ansie e problemi proprio di stomaco, perché la mia ansia spesso di sera deriva perché magari ho mangiato qualcosa in più, ho sempre paura di non star bene di notte, perché mi capitava molto spesso, avendo la gastrite cronica e devo dirvi che col fatto che mi andava a stimolare il sonno e rilassarmi mentalmente e poi vedendo che l'aloe mi faceva bene, non ho più questi problemi, dormo benissimo. Bene, allora, terminato lì c'ha assorbenti ultra dei cotton, queste qua, mi sono piaciute moltissimo, erano dei assorbenti belli larghe, assorbivano molto bene, non mi hanno provocato irritazione, ero sempre bella asciutta come i bambini nel pannolone, l'unica cosa è che aveva una colla di merda, cioè ballava e andava in giro per la mutanda dove cazzo voleva, però buone. Terminate i Maxi Pads di Abilene, questi mi piacciono tantissimo, sono cicciotti spesso e non sono foderati ma non si sfaldano, sono una coccola morbidissime e costano veramente una cacchiata su Alda M. Poi andiamo così a cazzo, ho terminato le ricariche di balea per il rasoio a 4 lame o a 5 lame, non mi ricordo, erano lubrificate, devo dirvi che mi ci trovo benissimo e costano veramente poco. Poi ho terminato il mio collutore di al verde, da un po' che non ve lo faccio vedere, ma semplicemente perché non sono solita ad utilizzare il collutore tutti i giorni perché mi va a seccare e impastare la bocca, non ho nessun problema di alitosi, quindi ecco, mi lavo i denti come le persone normali. Finalmente l'ho finito, questo è biologico senza alcol, gusto di menta, proprio quella fresca che mi piace tantissimo, ve lo consiglio, certificato Natru. Terminato Andrea il suo Listerine, questo effetto bomba, lui piace tantissimo, io non lo sopporto perché sono molto sensibile. Abbiamo terminato, perché alla fine Andrea l'ha terminato perché non mi sono piaciuti, il Neutro Roberts fresco, tè verde e lime, zero sale d'alluminio, adesso non si vede niente. Questo mi è piaciuto molto perché non mi faceva puzzare di cipolla, perché spesso la profumazione di tè verde sotto le ascelle non è cosa. Buono, non ha una altissima durata, ma devo dirvi che io non sudo chissà che cosa, solo che dopo un po' ho cominciato a bruciarmi, quindi l'ha finito Andrea. Questo l'ha finito Andrea perché aveva una profumazione troppo stuccosa, questa è di Manvason Udelette, a latte e cotone, profumazione molto molto dolce, non sa di cotone ma sa tipo di latte per i bambini, molto dolce e sotto le ascelle si sentiva troppo, non mi piaceva l'odore che faceva uscire, io ripeto che non ho una sudorazione acida, quando sudo non puzzo, almeno che non mi lavo per due giorni, allora lì sì, però in una giornata non si sente la puzza, sono io che sento che sudo e quindi sento la necessità di lavarmi, ma non perché puzzo, ecco. L'ha finito lui perché a me no. Poi ho terminato questo Fresh Balm Pocket Pack di Bette Body Works, questo qua, questo era un gel igienizzante che mi ha portato una mia cliente da New York, buono, aveva la profumazione erbaccia perché questo era tipo profumazione di bosco, aveva queste micro perline all'interno ma la sua azione era mucchina, insomma, buono, non mi ha seccato le mani. Terminato il Sensodyne, questo qua che utilizzo io per lavarmi i denti, buono, non mi è andato a impastare la bocca, a seccarmi la bocca perché spesso capita, se non mi è andato a sensibilizzare i denti perché va a curare questa problematica, buono, adesso voglio provare altri che mi avete consigliato voi. Bene, passiamo alla sagra di bagno doccia, allora, Andrea ha terminato i fiori di cotone Mimosa di Yves Rocher, buonissima questa texture perlata, cremosa, profumazione fantastica, lava divinamente, io lo adoro, infatti l'ho usato anch'io, lui lo usa, da solo gli dura un mese, quando lo usiamo insieme, le dura due settimane, sicuramente lo ricomprerò perché lava veramente bene, non secca, questa profumazione è fantastica. Poi io ho terminato, allora, in palestra ho terminato due bagno doccia, questo che mi è piaciuto tantissimo, è il balè gel doccia ai sali di mar morto, questo è fantastico, era una profumazione gel, si, profumazione in gel, texture in gel, profumazione fresca, misto bosco e mare, proprio di natura fresca, selvaggia, quando mi lavavo con questo bagno doccia, mi sentivo come dopo un bagno nel mare, cioè proprio rinfrescante, rinvigorente, ottimo, 250 ml di prodotto, costa poco, non è bio, però ragazze, fantastico, l'ho adorato. Ho terminato anche questo balè doccia crema con estratto di latte e di riso, 250 ml di prodotto, questa consistenza perlata in gel, era molto buono, lavava molto bene, però con la profumazione fin troppo fasulla, quello era più fresco, passatemi il termine più naturale con profumazione, questo era proprio fasullo, sapete che io, è da un po' che ho utilizzo i prodotti bio anche per la detersione, non sono più abituato a questi profumazioni. Terminata anche la mousse doccia di Calm Down, questa era una mousse doccia al profumo di fiorettiere e cocco, piaciuta tantissimo per profumazione, per la texture, però questa versione, ragazze, mi seccava la pelle, io non so come possa essere, perché è estremamente delicata, lavava molto bene, al momento lascia la pelle morbida, però mi seccava la pelle, quindi in questa profumazione non la riprenderò. Poi ho terminato i balè e cuori per il bagno profumo al melagrano, queste qua, sapete che fino ad oggi c'è stato un freddo boi e quindi sono riuscita a farmi qualche bagno, molto buona, ammorbidivano l'acqua e sembrava quasi come quando mettete il sale nell'acqua per lavastovili, proprio toliva la durezza dell'acqua, quindi era più coccoloso lavarsi. Poi ho terminato il Co-Girl Natural Gel Doccia e Scrub, io ho utilizzato tutti i bagno doccia all'interno, perché lo scrub l'ho terminato tempo fa, buono, aveva una profumazione fresca che mi è piaciuta tantissimo ragazze, tantissimo, peccato che non lo fanno in full size, lavava molto bene, lasciava la pelle molto morbida e nonostante fosse in gel, buono. Di bio ho terminato il Gel Doccia di Alverde, questo è il Doccia Schiuma con Ibisco Bio e Cannella Bio, profumazione assolutamente invernale, ma eravamo in inverno praticamente, non scherzo, però faceva freddo, profumazione di cannella, si sente, era un gel che mi è piaciuto tantissimo, lasciava la pelle morbidissima, una schiuma soffice e faceva tantissima schiuma subito, quindi nonostante sia un prodotto bio, lavava molto molto bene, mi è piaciuto da matti, infatti l'ho divorato, 250 ml, certificato NABU. Amato come tutti i bagno doccia di questa linea, Felce Azzurra Bio, questo è stato con aloe vera e lime, profumazione super super fresca, 500 ml, certificato Icea, tanta schiuma, texture in gel, coccolosissima, io non so ragazza, ma li trovo fantastici, veramente fantastici, perché nonostante fanno tantissima schiuma, lasciano la pelle morbida, quasi vi dà la sensazione di pelle idratata, cioè ottimo, ma tutte, tutte le versioni che ho provato, adesso voglio provare quella mandorla in cocco, ma mi fanno impazzire, credo che queste siano il miglior bagno doccia bio da supermercato, top, consigliatissima. Corpo, 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 ho terminato il Esfoliating Shower Scrap Gel, insomma, Summer Edition, al Ananas di Sien, profumazione molto buona, 200 ml di prodotto, questo era un gel doccia esfoliante, si poteva utilizzarlo tutti i giorni tranquillamente per mantenere la pelle esfoliata, perché aveva questi microgranuli molto molto blandi, sparse un po' qua e là, faceva anche schiuma, quindi vi faceva due azioni in uno, buono, mi lasciava comunque la pelle leggermente liscia, perché fa, cioè esfolia, non eccessivamente, ma esfolia, buono, ma non lo ricomprerò, uno perché la profumazione è un po' così, due perché è molto molto colorato, quindi i coloranti spesso poi mi danno fastidio alla pelle, e quindi anche il fatto che mi sia seccata molto la pelle era dato da questo. Terminato anche il Body Scrub di Sien, questo era il Body Sugar Scrub, arancia e cannella, se non sbaglio, arancia e vaniglia, si sentiva moltissimo l'arancia, quasi l'arancia amaro, era una pasta con tanti microgranuli di zucchero, si andava ad applicarlo sulla pelle leggermente umida e non bagnata, perché sennò scivola e si scioglie subito lo zucchero, sulla pelle leggermente umida, pepepeccate con calma, aderiva molto molto bene, si riusciva a massaggiare bene perché si trasformava in una pasta un po' durella, no? Si massaggiava benissimo, al risciacquo comunque avete fatto uno scrub, non è lo scrub migliore, però è stato un buon scrub, non lo ricomprerò per la stessa motivazione, troppi troppi coloranti. Poi crema corpo, amata e straamata, crema corpo da natura all'avena, questa non è biologica ma è senza schifezza e profumazione paradisiaca, la potete trovare su Dalila Moa, buona buona buona, questa era con estratto di avena, promette morbidezza ed è così, pelle morbida, elastica, setosissima, buonissimo, si assorbiva molto molto in fretta, questa profumazione di bebè, di bambino, buonissima, sembrava una bambina quando la utilizzavo, mi è piaciuta tantissimo, costa poco ed è veramente buona, un buon potere idratante, non è eccessivamente nutriente, quasi per niente, però abbinata ad un olio fa top. Terminata anche la crema di brochet, questa era camomilla 60 anni eccetera eccetera, perché il back è cambiato, questa era una crema per, vabbè non si vede niente, comunque è vuota, è una crema per il corpo, 125 ml di prodotto, pensata per utilizzare sul viso e corpo, dovrebbe essere una crema confortante, lenitiva, perché appunto contiene camomilla, si ha un inci, non malaccio, ma neanche che spicca in chissà che cosa, ha una texture simile a quella della Nivea Soft, ve ne ho già parlato, si assorbe molto velocemente, vi dà una blanda di idratazione, ma niente di che, il che ci può stare perché è pensata anche per il viso, ha una texture molto leggera, però ecco 10 euro per 125 ml, che non riesco a farci nulla, se non andare a idratare la pelle continuamente, non ne vale la pena, perché non sei bio, se fosse bio, funzionale 10 euro, ok, ma se non sei bio, ti spacci per naturale e poi non fai neanche, non sei neanche all'altezza di quella della Nivea Soft Cream, lasciamo perdere, amata tantissimo il body butter di Wooden Spoon, questo è il marchio che potete trovare su nuvole blu, questo era un burro corpo, ma di quelli veri, nel senso che era olio solido, conteneva burro di caretè, burro di cacao, olio di cocco, olio di mandorle dolce, olio di argan, olio di macadamia, vitamina E, c'è, fantastico, io lo utilizzavo su pelle bagnata per questione di praticità, perché era solido, quindi lo scaldavo sul corpo e amen, perché avendo i gatti e gironzolando per casa, mi si attaccava tutti i pelli ad osso, però a me la sensazione di un topiace, nutriva tantissimo la pelle, gli dava la sensazione di pelle idratata, perché l'olio si gira la pelle, quindi mantiene e trattiene l'idratazione e l'acqua nei tessuti, buona, elasticizza, nutre, non aveva un effetto compattante, però veramente la pelle era morbidissima, costicchia, però devo dirvi ragazzi che ne basta anche poco, perché è una noce, la utilizzavo ogni volta, ottimo. Terminato l'argan oil di Epi Naturals, questo di Epi Naturals, infatti il burro corpo, che mi ha regalato la Stefania, profumazione molto molto buona, molto dolce, anche questo è pieno seppo di ingredienti, oli, burri, ma anche tanta glicerina, tanti estratti di glicerina, quindi aveva questa consistenza strana, non passosa, però strana, si assorbiva molto in fretta, non faceva assolutamente sce bianca, vi creava quasi una guaina sulla pelle, quindi anche da un lato era un bene, perché con l'attrito dei vestiti mi andava in un certo senso a proteggere nei limiti, buona, manteneva la pelle bella idratata, bella morbida, ottimo. Poi ragazze, scusate, ma c'è il mio patatone che vi vuole salutare, guardate quanto è diventato grande, guardate quanto è diventato grande, amore mio, amore mio, guarda, ha gli occhi azzurri come la mamma, come la mamma, non vuole scendere. Poi passiamo ai capelli, ragazze, ebbene sì, questo mese abbiamo anche prodotti per i capelli, terminato il Madara Boost, tattone, se è tutto vicino a me, lo vedete le orecchie, il Grow, questo è il Boost per il cuoio capelluto, questo era un prodotto studiato per stimolare, rinforzare i capelli e la crescita dei capelli, andava applicato sulla cute asciutta, massaggiato per tre minuti e poi si lavava i capelli. Era buono, era una cremina abbastanza liquida, si riusciva ad applicare tranquillamente perché aveva un beccuccio ma io l'ho rotto, lo massaggiavo, sentevate quasi la sensazione di formicolio, si sentiva che il prodotto lavorava, grazie al massaggio circolatore che avete fatto sui capelli, ragazze, faceva tantissimo volume ogni volta che lo utilizzavo, mi è piaciuto molto per quanto riguarda se mi ha fatto crescere i capelli, se mi ha aiutato a restare la perdita, anche se io fortunatamente non ho avuto una perdita di capelli, sarà anche per questo tutti gli altri prodotti che utilizzo, non saprei se è stato questo altro, però mi è piaciuto tanto e sicuramente lo andrò a ricordare perché mi ha colpito, non saprei dirvi il perché, però ha fatto la differenza rispetto all'altro. Shampoo, terminato questo di Dottor Organic al caffè, questo è stimolante e rinforzante con peperoncino, pepe nero e caffè, mi è piaciuto tantissimo ragazze, 200 ml di prodotto, texture in gel, profumazione che mi fa impazzire. Allora, quello che io ho capito di questo shampoo, allora, anche all'inizio mi piaceva quando vi ho recensito il prodotto per quanto riguarda la mia hair care, perché lavava molto molto bene, si lasciava in pose lo shampoo uno o due minuti, poi si andava a risciacquare. Intanto, veramente avevate i capelli molto molto più voluminosi, lucidi, leggeri e questo shampoo mi manteneva i capelli puliti tra un lavaggio e l'altro. Certo, li dovevo lavare perché non potevo prolungare. Però una cosa l'ho capita, visto che questo prodotto è pieno pieno zeppo di estratti e una ragazza di voi mi ha scritto su Instagram dicendo che comunque i shampoo di Dr. Organic sono buoni, però sono molto ricchi e quindi aspetto lavante un po' così, mi è venuta una brillante idea di aumentare la quantità del prodotto. Ragazze, ho scoperto l'acqua calda, cioè i capelli mi sono rimasti puliti addirittura due giorni in più rispetto al solito, cioè sì, ho abbondato di quantità, facevo una schiuma esagerata e mi raccomando sciacquate molto 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 bene questi tipi di prodotti, ma è stato favoloso, sicuramente lo andrò a ricomprare. Quindi, se avete un prodotto, uno shampoo di Dr. Organic e vi sembra che non vi lava bene, provate a aumentare la quantità perché ha veramente tantissimi estratti, probabilmente come effetto lavante è molto delicato. Provate, l'ho amato e sicuramente lo andrò a ricomprare. Mi è piaciuto il volume, mi è piaciuta la lucentezza, mi è piaciuto tutto. Poi terminato anche la maschera di Giada, impacco rinforzante, alla spirulina. Questa è una maschera che sinceramente non saprei dirvi se ha fatto il suo o non ha fatto il suo. Scusate. Sono 250 ml di prodotto certificato, non so che cosa perché non lo trovo in questo momento. Sì, magari se anche cadi, vabbè ragazzi, comunque sapete che Giada è certificato, adesso non lo vedo. Era una maschera per i capelli pre-shampoo di color verdonello che richiama la spirulina. Anche questa tecnicamente dovrebbe andare ad arrestare la caduta dei capelli, a rinforzare i capelli, eccetera eccetera. Quello che ho notato io è che ogni volta che la utilizzavo i capelli erano molto molto più morbidi, però ci sono state delle volte che mi andava a pesantire i capelli in base allo shampoo che utilizzavo. Quindi se utilizzavo lo shampoo più delicato, anche se facevo due lavaggi, questa maschera comunque rimaneva su. Mi appesantiva i capelli. Con gli altri shampoo no. Devo dirvi che comunque i capelli morbidi li ho sempre avuti quando l'ho utilizzato, quindi buono. Non ha chissà che è un effetto idratante e nutriente perché proprio va a lavorare sull'aspetto di rinforzo del capello, visto che va utilizzata sulla cute. Non la ricomprerò perché non mi ha colpito particolarmente. Terminata la maschera capelli biologica di Omia, questa è certificata Icea alla macadamia. Una buona maschera, forse l'ho apprezzata un po' di più da quando ho i capelli corti perché quando avevo i capelli lunghi su di me era troppo troppo poco. Sapete che quando si ha i capelli lunghi sono molto più esigenti, molto più secchi e molto più sottili perché da quando ho tagliato i capelli vedo i miei capelli quasi il doppio perché ne ho veramente tantissimi e quando erano lunghi probabilmente la lunghezza si era sottiliata, per questo ho anche tagliato i capelli per dargli una botta di vita. Nonostante in tantissime avete subito questo drastico cambiamento, malissimo, ma ragazzi tranquilli cresceranno, stanno già crescendo un botto. L'ho fatto per i miei capelli, insomma. Allora prima non mi dava chissà che, non aveva un aspetto nutriente, idratante, che spiccava. Ho provato di meglio da quando ho i capelli corti, mi basta di stricare la meraviglia, mi dà quell'idratazione che mi serve, quel nutrimento, anche perché sì ho i capelli più corti però sono sempre secchi e sulle lunghezze, ma non così tanto come prima. Quindi buona, devo dirvi che l'ho salvata, mi è piaciuto utilizzarla, ne bastava poco, non pesantiva i capelli e poi mi lasciava i capelli morbidissimi. Passiamo al viso, ragazza, aiuto 22 minuti. Allora, struccaggio, terminati, struccanti bio di fria, acqua micellare con estratto di vite rosse bio, effetto vellutante, piaciute molto, sapete che queste sono una delle mie salvetine preferite struccanti, anche se adesso sul podio stanno quelle per i bambini, buone. poi terminato, dovete vederlo come si è sdraiato, terminata la miglior acqua micellare che abbia mai provato, acqua micellare lenitiva per pelle sensibile, viso, occhi e labbra di Giada Renaissance, 500 ml di prodotto, l'ho amata, l'amo, l'amo, l'amo ragazzi, la prossima volta che devo fare un ordine su Eco Verde o su qualsiasi altro e-commerce la ricomprerò, fantastica. Questa conteneva l'estratto di camomilla, calendola, fior d'aliso e l'oe vera, cioè più delicato di così, non aveva profumo, era molto scorrevole, non bruciava gli occhi, mi struccava ogni sugli occhi, ombretto, non ombretto, mascara, non mascara, tutto, tinta labbra, tutto e non mi andava assolutamente a bruciare, mi lasciava la pelle quasi luminosa, cioè qualcosa di impressionante, ne bastava anche poca. l'ho terminata anche abbastanza in fretta perché una parte l'ho utilizzata come mousse, però fantastica ragazzi, per pelle sensibile, stra, stra, stra top, secondo me la linea per il viso di Giada è buonissima. Poi sempre come detergente ho terminato il gel detergente purificante di Silveco, anche questo è uno dei prodotti topissimi, questo era con estrato di timo, rosmarino e quiseto, fantastico, texture in gel molto morbido, non molto denso, faceva abbastanza schiuma ma non troppa, non andava a seccare la pelle, anzi la lasciava morbidissima, non tirava neanche mezza cellula, cioè buonissimo questo prodotto, non lasciava la pelle che tirava, allo stesso tempo andava a purificare la pelle ma non la andava ad aggredire, seccare, zero, top, quindi sicuramente è un prodotto super super adatto per pelli con pelle sensibile, pelle secca come la mia perché l'ho utilizzata e non mi ha dato fastidio, pelle normale, anche pelle grassa, molto reattiva, è un prodotto favoloso che sicuramente lo andrò a ricomprare, profumazione di arrosto con le patate e il rosmarino, poi sempre come latte, che combinano? Sempre come latte detergente, sì, sì, ciao, come detergente ho finito il latte detergente illuminante di Bio Care Skin Care, questo è un detergente che io trovo nei negoziati con la tessera certificata, ecco, mi è piaciuto molto, profumazione da bebè adorabile, veramente adorabile, era abbastanza grassetto, non come texture ma come sensazione perché la texture era molto liquida, quindi anche per questo è finito velocemente perché avendo questa apertura si spreca un po' di prodotto, però al mattino era una coccola detergeva bene, non lasciava residuosi la pelle, l'unica cosa che lasciava questa profumazione di bebè per tanto tanto tempo, lasciava la pelle morbida, non posso dirvi se strucca perché non l'ho utilizzato come struccante, non posso dirvi se illumina perché un latte detergente non illumina, questa era con bava di lumaca e estratto di argan, non so se ve l'ho detto, però mi lasciava la pelle molto morbida in uno stato di comfort pazzesco, quindi è stato un buon latte detergente, ma ripeto la texture non mi è piaciuta tantissimo, poi andiamo avanti, finito uno scrub finalmente, perché io compro sempre i scrub che ha un tubone da un metro, allora ho terminato questo di Dr. Organical T3, finito, ho piaciuto tantissimo, era anche ora che finisse, questo conteneva tantissimi estratti come T3, melagrano, come aloe vera, l'acido salicitico, l'olio di cocco, pomice, l'estratto di limone, rosmarino, l'estratto di cetriolo, di arancia, echinacea, menta, mela, alfa idrossidi acidi, fantastico, questo era uno scrub purificante che su di me, devo dirvi che non mi ha dato tantissimo fastidio, era una crema molto molto ricca di granuli che si sentono tantissimo nel momento che sciacquate il viso, al momento quando massaggiate, li sentite, però non vi rendete conto della potenza dello scrub che state facendo, una volta che sciacquate, da dove cavolo sono sbucate questi granuli, tantissimi, vi lascia una pelle pazzesca, luminosa, levigata, con i pori pulitissimi, non vi va ad aggredire la pelle, non mi ha mai graffiato, mai arrossato, mai in perfezione, ottimo, e in più vi lascio questo effetto sul viso, oltre a fresco e pulito, sbiancato, perché poi contenendo le alfa idrossidi acidi, vi fa, oltre al vostro scrub meccanico, vi fa anche un peeling enzimatico, perché vi va proprio a togliere quel grigiore della pelle, è super super promosso, costa, mi rendo conto, ma vi dura anche un fottio di tempo, cioè a me mi è durato 6-6 mesi, che ne so, la prima volta che ve l'ho mostrato è stato tipo a gennaio, ma l'ho cominciato anche prima. Poi, sempre in ambito di maschere, questa non è una maschera più un esfoliante, ho terminato il Lux Peel Enzimatic di Eteria, non vedrete la scritta perché si è un po' cancellata, buonissimo, questo era un, come si chiama, adesso qua c'è l'acqua, buonissima la profumazione, c'è l'acqua perché fa riflesso, questo era un peeling oleoso, simile a quello di Sentifoglia, quindi oltre ad andare a rimuovere le cellule morte svolgendo un effetto, un peeling enzimatico, scusate, vi va anche a nutrire tantissimo la pelle, la lasciate in posa anche per 10-15 minuti, perché non è a base di acidi aggressivo, ho un pelo in faccia, bene, si applicava sul viso che sembrava un olio, poi si andava ad emulsionarlo e si trasformava in latte, ma una volta che sciacquate il viso, oltre a sentire la pelle setosa, morbida, levigata, pazzesco, ma il giorno dopo la vostra pelle diventa super super luminosa, effetto specchio, cioè specchio, bellissimo, è un peeling enzimatico che ha il suo costo, io ci ho fatto 10-12 applicazioni, buonissimo, soprattutto per la pelle delicata, per le pelli che non vogliono utilizzare lo scrum meccanico, per le pelli secche, per le pelle molto disidratate, cioè, è il matrimonio, veramente ottimo. Poi ho terminato anche il burro di noci, questo qua di Biopark, io l'ho utilizzato per farmi impacchi, scusate, sto morendo, in diretta, impacchi per i piedi, l'ho utilizzato sulle zone particolarmente secche, gomiti, anche il mio amoroso lo utilizzava sulle mani, perché la pasta lavamani le dava molto fastidio, quindi l'ho utilizzata, è proprio un burro, un unguento che si scioglie, questo è un burro di noci con burro di karité, profumazione un po'... però aveva un'azione emolliente, ammorbidente, quindi mi è piaciuto moltissimo, non lo andrò a ricomprare perché la profumazione mi ha stufato, ma è un prodotto da avere in casa, se avete i talloni secchi, screpolate, mani screpolate, fare un impacco è ottimo. Tonici terminato, finalmente l'acetto di bellezza di Roger Gallais, questo non è un prodotto bio, sono 200 ml di prodotto, ragazze, ragazze, è un prodotto che mi è piaciuto tanto, però non lo ricomprerò per ora perché la profumazione per me è stato, cioè mi prendeva in gola, una profumazione da profumeria troppo troppo pesante, l'effetto era bellissimo perché era un tonico che si andava a shakerare, io all'inizio lo utilizzavo di sera e mi piaceva l'effetto ma non mi convinceva, poi ho cominciato ad utilizzarlo al mattino ed è cambiata la storia, pelle luminosa, levigata, vi va ad affinare proprio la grana della pelle, vi lascio la pelle super liscia, super compatta, bellissimo, senza andare a ungere, nonostante sia un prodotto comunque bifasico, anche al mattino dopo ci andavo ad applicare il siero, essence crema, cacchi e ramacchi, però buonissima ragazze, stupenda, ma la profumazione non ce la fa, cioè mi prendeva ogni volta la gola, no, no, però è molto buono, poi ho terminato la essence vital treatment di blight, si scrive blitte, non so se riuscite a vedere, eccola qua, questa è un essence che contiene 9 semi essenziali in iacinamide, inoltre aiuta a rivitalizzare la pelle e i suoi componenti grazie alle vitamine eccetera eccetera, allora qua al momento non vi sto dire tutti gli estratti che contiene, perché i nomi nativi non me li ricordo, cioè li posso leggere qua, ma però ve l'ho menzionato nella mia skincare invernale, dove sono andata a leggere, perché ovviamente io non sono un pozzo di scienza e non mi ricordo cosa vogliono dire, sono tutti estratti comunque particolari, perché questa è un essence che potete trovare su VK Beauty, costa un patrimonio, sono solo 150 ml, costa 40 euro, è un prodotto biologico made in Corea, quindi è una vera e propria essence da inserire nella skincare coreana, quindi stratificazione dei prodotti, molto bilanciata, perché questa era un essence bilanciata che andava a, la sua funzione era preparare la pelle, andarla ad idratare, andarla a levigare, lavorare sulle macchie, sull'aspetto della pelle, ragazze lo fa, era un essence leggera dalla texture, però una volta che l'applicavate sul viso, sembrava che il viso si rimpolpasse, vi dà questa sensazione di polposità, di pelle super super idratata, proprio di pelle piena d'acqua, mi viene da dire questa frase, piena d'acqua, proprio turgida, bella, idratata, ma non così idratata da andare a intaccare i step successivi, quindi era un'idratazione secondo me più profonda, vi lasciava una pelle molto molto levigata, molto settosa, buonissima e soprattutto andava sì a lavorare sull'aspetto della pelle, sì andava a lavorare sulla grana della pelle e sì che andava a lavorare sulla luminosità, sulle macchie non saprei perché io avevo una macchia che adesso non ho più a lei, ma era una macchia molto leggera, però ho una pelle molto molto discromica, cioè non è bianca come vedo tutte le ragazze gnocche, però è molto discromica, non ho imperfezione, ma ho i rossori, ho un po' tipo specie di cuperosche, non ce l'ho però è simile, quindi vedevo che andava a schiarire quei rossori e avevo la pelle più uniforme, piaciuta tantissimo, adattissima all'inverno, perché in primavera c'è stato un periodo che una settimana o due c'è stato molto molto caldo e alla sera la sentivo un po' più pesante, fortunatamente da un lato con questo freddo, con questa pazza primavera sono riuscita a terminarla perché mi mancava tanto così e sinceramente tenerla fino a settembre non riuscivo perché è al pao di 6 mesi, no di 12 mesi potevo farlo, vabbè, comunque non mi piace tenere i prodotti in stand by per un po', quindi con questo fresco la mia pelle si è trovata da dio, ve la consiglio soprattutto se avete la mia tipologia di pelle oppure avete una pelle matura, una pelle esigente oppure se vi volete regalare un trattamento, una coccola perché questa è stata una vera vera coccola. Gli ultimi due prodotti ragazzi e poi vi lascio andare, ho terminato due creme di madara, smart antiossida day cream e la crema rigenerante notte, due creme diverse delle linee diverse ma stesso brand, certificati eco certe, 50 ml di prodotto, prezzo 30 euro e poco più ciascuna. Allora, questo giorno era una crema minimizing per pelle secche, molto secche e disidratate che contiene il complex smart antiossidante, contiene il muschio felce alchemilla che svolga un'azione antiossidante per venire l'invecchiamento. Allora, questa mi è piaciuta molto anche se mi aspettavo di più, era una crema che, cacchio, quando leggi per le pelle molto secche ti aspetti un mattone, un burro, che ne so, il burro da frigo. E invece è stata una crema molto molto leggera dalla texture, proprio quasi acquosa, effetto bagnato, si assorbiva subito ma vi lasciava la pelle bella, bella tonica, bella idratata, liscia, quindi perfetto come primer per il make up, come base di trucco insomma, packaging stupendo anche se aveva questo puntino qua che si incaccola sempre, aveva una profumazione molto delicata e lasciava veramente la pelle idratata per tantissime ore. Anche se in alcuni momenti di tanto freddo sentivo la pelle tirare la sera, però sapete che io ho una pelle psicopatica e quindi buona per le pelle secche, molto buona, però ecco, secondo me per una pelle matura è molto molto secca, è un po' pochino, quindi da rivedere un po'. Piaciuta e sarà piaciuta tantissimo, ah sì, e l'ho utilizzata anche come maschera idratante, ve l'ho già detto nei video precedenti, come anche questa, maschera, crema regenerante certificata Ecosert per tutti i tipi di pelle, con estratto di lupolo del nord e germoli di orzo, mi è piaciuta, anche questa era una crema molto leggera dalla texture, ma si sentiva che era più ricca rispetto all'altra. Utilizzata da sera è fantastica, perché anche questa aveva un effetto bagnato, però la percezione di crema sulla pelle c'era e si sentiva, non vi andava a ungere particolarmente la pelle, si assorbiva anche in maniera molto molto veloce, ma ragazze, idrata, nutre, ricompatta, leviga, tonifica la pelle in maniera pazzesca. Io l'ho sempre definita una crema intelligente, perché questa crema l'ho già utilizzata, ma da giorno, mini size, tanto tempo fa. Allora, è vero che è adatta a tutti i tipi di pelle, perché sembra che si plasma sulla vostra pelle, cioè voi la mettete e sembra che abbia questo congegno di riconoscere la pelle, che tipo di pelle e esigenza avete, perché effettivamente lo fa. Dove avevo il ressore mi andava a disarrossare, dove avevo le zone più secche me le andate a idratare e nutrire, dove avevo la pelle normale, era semplicemente idratata senza essere appesantita, senza avere la sensazione di prodotto troppo. Non so se avete presente, non so se mi sono spiegata anche in italiano, ma è mezz'ora che parlo. Quindi mi è piaciuta tantissimo, buona, buona, buona. Ve la straconsiglio, l'ho utilizzata come maschera rigenerante da notte, in uno strato più abbondante dopo l'influenza e ragazze, top, 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 top. E niente ragazze, questi sono stati tutti i miei prodotti finiti di maggio, spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grandissimo bacione. Fatemi sapere come sempre se vi sono stata utile, comunque mi fa molto piacere passare del tempo con voi e io adoro questi video di prodotti finiti perché mi danno tanta soddisfazione. Se vi fa piacere ovviamente passate dalla Stefania perché anche lei sempre finisce una catarva di prodotti. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao dolcezze!